ciao creatura io sono mecca di splendente e benvenuta ben tornata nel regno di cos'è ASMR allora premetto che farò farò prossimamente quel video di cui vi ho parlato su instagram dove appunto vi raccontavo come story time l'incidente che ho subito prima di pasqua però siccome la faccenda non è ancora terminata perchè si aggiunge sempre un problema nuovo preferisco aspettare il periodo in cui si conclude la faccenda e poi così posso raccontare dall'inizio fino alla fine comunque arriverà quel video almeno monetizziamoci sopra sulla sfiga giusto e così almeno racconto una volta per tutte cosa è successo senza dover ogni volta ogni persona dire è successo questo e fare il mio cario assunto così ve lo guardate ve lo rilassate e poi così almeno che ci guadagniamo un video rilassante ci sta e magari potrebbe anche aiutare qualcuno che magari spero di no non accada mai a nessuno però purtroppo succede queste cose succedono almeno sapete cosa fare non come io che non sapevo minimamente cosa fare è stato orribile comunque come hai letto dal titolo oggi ti mostrerò i miei regali di compleanno per chi non lo sapesse il 21 aprile ho compiuto gli anni e ti mostro che cosa ho ricevuto e anche una collaborazione che inserisco qui dato che mi avevano chiesto di riuscire a farla uscire prima della festa della mamma e io appunto ho avuto problemi però cerco lo stesso mi sono ritagliata diciamo che sono tornata a casa mia un pomeriggio cioè due ore solo per poter fare questo video e poi se riesco ne faccio anche un altro perché avevo avevo delle collaborazioni in ballo che non ho potuto realizzare appunto per colpa di quel vecchio ma lasciamo perdere ok quindi insieme ai regali di compleanno metto anche questi due oggetti che comunque mi sono stati regalati mi sono stati inviati gratuitamente dal solito sito e happiness che era happiness boutique anticamente nel passato tanto tempo fa e quindi è come se fossero stati dei regali di compleanno praticamente no li mostro subito allora così ti spiego creatura perché ho scelto le solite confezioni sono queste confezioni con inciso e happiness e poi dentro c'è la scatolina rosa non si leggerà nulla qua vabbè che bello questa è il solito sito dove ogni volta che acquisti qualcosa pianta un albero cioè adoro ogni totto mi chiedono la collaborazione io accetto volentieri perché continuo a indossare la loro catenella la la loro collanina questa qui che ce l'ho da una vita ormai da quando me l'hanno mandata la tengo sempre ci faccio anche la doggia non si è mai rovinata ed è una bussola perché ci avevo fatto tutti dei ragionamenti per il quale ho scelto la bussola perché era tipo per non perdere mai la rotta eccetera eccetera cose mie personali su e ho scelto questi orecchini che regalerò appunto per la festa della mamma mia madre e sono veramente troppo carini hanno tutti questi cerchietti che sembrano degli specchietti quindi riflettono la luce e danno questo effetto siccome mia mamma va a ballare e ho pensato che sono perfetti per quella occasione balla tango tipo mi immagino che ballandoli muove si muove quindi si muovono questi specchietti e creano non so creano dei bei giochi di luce non lo so l'ho deciso io ma penso sia così poi invece ho scelto una cosa per me che sembrerà tipo la cosa più bella del mondo che ormai hanno tutti ma chi se ne frega di solito io ho sempre cose diverse ma ho fatto un ragionamento su mio tutto che ci sta e quindi ci stava ho detto ma sì anche se ce l'hanno tutti questa collana però sto guardando lì perché c'è Sam fuori e dicevo appunto anche se questa collana ce l'hanno tutti è diventata ormai banale non so mi piace con lo stile che ho adesso e tutto ci sta anche con tutto il mio ragionamento da abbinare alla collana che ho già attualmente allora ho preso la collanina con le stelline ce l'hanno tutti ecate perché hai fatto questo perché adesso ti spiego allora in teoria dovresti già avelo capito e abbinarò la bussola allora ehm chi mi conosce sa che i miei film preferiti sono la guida galattica per autostoppisti e cortina della galassia e poi vabbè ehm facevo molto ehm seconda stella a destra e poi dritta fino al mattino ok con la bussola le stelline secondo me insieme ci stanno perfette anche con ehm la bussola e le navicelle spaziali lo spazio il guardien della galassia che ha tutto un significato significoso per me se avete imparato anche un minimo a cercare di conoscermi e capirmi quindi basterà questa spiegazione per farvi capire perché ho scelto e perché anche se c'erano tutti sta collana in realtà abbinata così è super originale super originale super originale non so se si sente i rumori dei vicini spero di no e quindi non vedo l'ora appunto di indossarla o indossarla insieme appunto abbinata all'altra le indosserò insieme e non le toglierò mai perché le questa con la bussola la sto portando da quando l'ho presa a adesso l'ho sempre portata anche per fare la doccia qualsiasi cosa io faccio la doccia a 3000 gradi e è sempre perfetta quindi le indosserò sempre insieme una mia collega mi ha regalato questa confezione di cioccolatini questa bella scatolina di metallo e sono praline di cioccolato al latte con ripieni assorditi di 100 grammi non ancora aperta aprirò e poi dopo ho finito i cioccolatini metterò la scatolina è molto bella poi molto utile anche poi ho ricevuto questo dal signor eh si no dal signor Andremur non so se si vede l'effetto ottico che ha è un porta monete portafogli molto grande da borsa grande ma per fortuna che lo zaino e ha questo disegno geometrico che sembra al buio cioè al buio diciamo quando uno riflette la luce sembra nero opaco e invece quando la luce riflette fa quell'effetto camaleontico eh no come si chiama quella sfumatura cos'è charmeleon tipo eh che sembra viola verde c'era un pigmento per la resina che girava tempo fa che tutti usavano per fare questo effetto eh lo fanno anche tipo un po' olografico per le unghie tipo penso che la maggior parte di voi l'abbia visto in queste circostanze o anche nelle semplici eh cose olografiche ha detto che quando l'ha vista ha visto questo portafogli questo regalo ha pensato a cos'è proprio l'essenza di cos'è qui ed è vero fighissimo ha varie tasche con porta documenti o tessere e poi ha una cerniera interna per il portamonete presumo e portafogli anche io di solito non uso questi portafogli così grandi ne ho uno tutto nero sopra ed elegante però penso che un giorno così quando mi verrà voglia di usarlo lo userò in occasioni speciali ho ricevuto questa candela ha il profumo di citrone anche se non sa quasi di nulla che userò quest'estate perchè adesso è troppo presto per usare questo tipo di candele di solito servono per scacciare le zanzare quindi per fortuna ancora presto poi dalla mia lista amazon mi è stato regalato questo dalla mia amica marco non dirò tutte le persone cioè chi mi ha regalato cosa che ha una raccolta dei semi di erbe collezione poi mi piace che c'è scritto preparato con amore qui e sono non uso ma non so se si guarda sono tutte bustine all'interno con ogni bustina ha dei semi di piante diverse forse ma dai non avevo mai detto allora c'è rucola prezzemolo prezzemolo menta timo erba cipollina aneto poi curiandolo rosmarino poi il crescione dei giardini il crescione può crescere in qualsiasi terreno anche sulla carta bagnata semina all'inizio della primavera all'inizio di marzo all'ombra sempre in ombra sparci i semi densamente sul terreno e lavoralo delicatamente puoi aspettarti che il crescione cresca molto velocemente germogliando entro pochi giorni in aria regolarmente per mantenere le piantine in salute basilico spinaci lattuga e basta c'è per ognuno una descrizione poi già raccolto e poi diventa creativo in cucina anche con qualche ricettino con quella specifica erba ho ricevuto una borsa steampunk bellissima che stava sulla mia lista desideria amazon da millenni e finalmente qualcuno me l'ha regalata si ho ancora avuto ovviamente il privilegio di indossarla la indosserò quest'estate e sicuramente non al lavoro anche se sto mattino sono stato al lavoro con la filpa degli ammonomart perchè era sabato e sabato c'è solo il nostro ufficio aperto quindi nessuno si è notato nulla di che non conoscendo la band non sapevano che cioè questa insomma ognuno si è fatto lì a fare i suoi è una di quelle borse che vanno possono essere usate a trocollo oppure anche sulla gamba ed è molto stile steampunk però nera non marrone così la posso abbinare a più cose mie e ci sono tante tasche e poi all'interno ci sono le cinghie con cui si può indossare a trocollo oppure su in vari stili una cosa uguale però una versione estiva una versione invernale più o meno fanno un sacco di rumore perchè sono ancora dentro alle confezioni allora te lo dico una è una tuta di cobracai e l'altra è una tuta estiva di cobracai anche questo non vedo l'ora di metterlo questa è la versione estiva quindi avrà probabilmente da un crapperillo pantaloni corti e maglietta maniche corte cioè t-shirt e poi c'è la tuta che non vedo la rimetterla però la metterò ovviamente quando riuscirò perchè ci vuole anche un cioè la voglio mettere in quindi in momenti appropriati ecco per rendere grazie a questa felpa a questa tuta sicuramente non come pigiama però per riuscire però per avvenimenti che ci stiano insomma la userò per andare a fare le passeggiate in pista ciclabile non lo so da una vita che non faccio passeggiate in pista ciclabile perchè quando sono andata a lavoro ho troppo sonno e in questi giorni sono dovuta andare a lavoro a piedi quindi come se l'avessi fatta però non è che potevo mettermi la per andare al lavoro ok sembra un mega cuscino però appunto è una tuta maniche lunghe e pantaloni lunghi ho ricevuto un autoradio ma lo posso mostrare adesso quindi che devo ancora inserire nella mia auto perchè la macchina è ancora dal carossiere ma qua no da il meccanico spoiler di un racconto orribile che tipo no di tutta la vicenda e basta non ho ricevuto altri regali e ricevuto regali dei parenti? no la maggior parte dei regali me l'avete infatti voi happiness boutique e voi miei amici e followers quindi grazie mille ehm spero che questo video ti abbia fatto rilassare e spero di non aver fatto troppi tagli che non sia troppo veloce insomma ehm però appunto o o così o così come un solito ma anche il lavoro mi capisce salvo di cosa sto parlando e fammi sapere qual è stato il regalo che ti è piaciuto di più avevo messo su instagram il link della mia ehm wishlist di amazon e qualcuno insomma ne ha approfittato nel senso che ehm l'ha utilizzata per fammi i regali e vi ringrazio tantissimo e qualcuno secondo me non se ne neanche accorto ma fa bene non importa ehm ho ricevuto più regali dall'anno scorso comunque grazie a voi ehm io ti auguro ehm buonanotte buon relax ciao creatura ciao